Nelle scorse ore, il mondo dello spettacolo è stato scosso da una notizia drammatica, una nota attrice è scomparsa improvvisamente, lasciando un vuoto profondo. La sua dipartita ha gettato nello sconcerto l'intero settore dell'intrattenimento, mentre familiari, colleghi e fan si trovano ad affrontare un lutto improvviso e doloroso. Una nota attrice, che ha fatto parte del cast della celebre soap opera Beautiful, ha perso la vita in un tragico evento verificatosi nelle ultime ore. La notizia ha generato una grande ondata di cordoglio da parte di parenti, colleghi e fan di questa talentuosa interprete americana, che ha lasciato un'impronta indelebile nel cuore di molti. La protagonista di questa tragica vicenda è Andrea Evans, una star statunitense che si è spenta all'età di 66 anni. La sua carriera era caratterizzata da un curriculum di grande rilievo, con numerose apparizioni in film e serie televisive di successo. Purtroppo, la sua vita è stata stroncata nella sua città natale, Aurora, a causa dell'aggravarsi di una brutta malattia con cui stava lottando da un po' di tempo. Andrea Evans lascia un vuoto incolmabile nel cuore del marito, Steve Rodriguez, e della loro figlia, che devono affrontare la tristezza e il dolore di questa perdita prematura. La sua scomparsa è stata un duro colpo per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla e di lavorare con lei. Nata il 18 giugno 1957, Andrea Evans ha iniziato la sua carriera di attrice alla fine degli anni 70. Durante il suo percorso artistico, ha interpretato il personaggio di Tony Moore nella serie Beautiful dal 1999 al 2000, conquistando il pubblico con la sua straordinaria performance. Inoltre, tra il 1986 e il 1988, ha ricevuto tre candidature ai prestigiosi premi Soap Opera Digest come migliore attrice e due come migliore cattiva nella celebre Soap Opera Una vita da vivere. Andrea Evans sarà ricordata per sempre come un talento straordinario che ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo dello spettacolo. La sua passione, il suo impegno e la sua dedizione hanno ispirato molte persone, e le sue interpretazioni rimarranno vive nei ricordi dei suoi fan. Mentre le diciamo addio, custodiamo con affetto i momenti speciali che ci ha regalato e continuiamo a celebrare la sua eredità nel panorama dell'intrattenimento. Prima di concludere, vorremmo ringraziarti per la visione del nostro video e invitarti a iscriverti al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche per ricevere aggiornamenti sulle ultime notizie e curiosità. Sarà un modo per rimanere sempre aggiornato su eventi di grande rilevanza come questo. Inoltre, apprezziamo molto i tuoi commenti e feedback, quindi non esitare a lasciare un commento qui sotto con la tua opinione. Grazie per il tuo supporto.